Si consolida una sinergia tra il mondo della scuola e il mondo della guardia di finanza. Oggi parleremo anche di legalità, legalità economico-finanziaria e credo che questi elementi, questi aspetti siano di fondamentale importanza per ogni cittadino e quindi indicare quali siano le linee di azione virtuose in uno stato di diritto agli alunni di questa prestigiosa scuola credo che sia una condizione imprescindibile per una crescita, una crescita che possa essere sempre più evoluta e al passo con i tempi. Il nostro liceo da tantissimi anni si occupa di legalità. La legalità è fondamentale. I cittadini italiani, i cittadini del mondo non possono avere cultura se non basata sulla legalità, sui valori fondamentali della nostra cultura italiana. Pertanto la legalità economico-finanziaria è fondamentale ed è un tassello importante, imprescindibile per i nostri alunni. Cominciare a vedere la cittadinanza attiva, che cosa significa? Educazione finanziaria è fondamentale, quindi cominciare proprio dai rudimenti, portare queste nuove generazioni proprio dentro a quello che è l'ambito in cui vogliamo crescerli. Oggi sono cittadini italiani, cittadini europei, quindi questo non è che un tassello che grazie alla Guardia di Finanza si unisce un po' a quello che è il lavoro delle nostre scuole. Grazie a tutti!